però tu 20 giorni così non lo so com'è a finire anche perché a lei tu interessa no ma si vede l'abbiamo visto tutto si vede benissimo 20 giorni sono tanti non so fino a che punto regge perché vuoi fabbrile capi? ma sei successo ma infatti ti vedo cambiato eh capi? questo è me ne paura eh ti vedo cambiato mi voglio cambiare la situazione è tosta la situazione è tosta ma retta a mente come la vedi partica la mano ti strusci un po' il movimento d'anche al vicino e gli fai sentire la seguoia quella si esturba e ti sacca che alzi che puer come me anche poeta lei non se ne f***a proprio ma ci sei o non ci sei? che non ci sto a nessuno è tosta c'è